Ciao, oggi vi voglio parlare di questo prodotto per il contorno occhi della Olaz. Si chiama, eccolo qua, è il Total Efte 7 in 1 crema trasformante per occhi, dice di essere attiva sui 7 benefici straordinari, quindi riduce visibilmente linee sottili e piccole rughe, riduce la comparsa degli occhiai, migliora la luminosità intorno agli occhi, riduce il gonfiore dall'applicazione, istantaneamente uniforme all'incarnato, leviga e uniforme alla grana della pelle, ripristina l'idratazione. Allora, è un 15 ml, questa è la confezione, e il prezzo è sui 15 euro, anche se avevo uno sconto e quindi non ho più il prezzo, ma comunque è intorno a quella cifra. Cosa dire di questo contorno occhi? La profumazione è molto molto leggera ed è perfetta per la zona in cui va applicato, è un gel molto leggero che si picchietta bene, si stende bene con un leggero massaggio e assorbe immediatamente. Cosa dire di questo contorno occhi? Io sinceramente tutti questi effetti che dice non li ho visti, ma essendo un gel è comunque già fresco di suo, se poi lo mettiamo anche in frigo e poi lo applichiamo, tende a decongestionare ancora di più le borse e questo è un effetto positivo. Quando lo applichiamo, comunque lo applico mattina e sera, si fa a fare un leggero massaggio che comunque tende a fare riassorbire i liquidi in eccesso che ristagliano nei contorno occhi e quindi tende a fare sembrare le borse e gli occhiai un po' meno visibili. Non fa miracoli sicuramente, ma è un prodotto valido rispetto ad altri. Certo, io vi consiglio di acquistarlo con lo sconto, non a prezzo pieno perché ci sono altri prodotti più validi uguali più o meno, ma che comunque costano meno. Comunque sia, l'Olaz è una vita che è in commercio, quindi questa è una garanzia e poi è carina anche la confezione in vetro, devo dire. E fatemi sapere se avete provato questo prodotto, come vi siete trovate. Io come sempre spero di essere utile e se ti è piaciuto il video mettimi un like, iscriviti al canale per non perdere le prossime recensioni beauty. E mi raccomando la campanella così ben avvisato delle prossime recensioni che pubblico e alla prossima, ciao!